La professoressa Gabriella Bruculeri, dirigente scolastica dell'Istituto di istruzione secondaria superiore statale Don Michele Arena. Sono partite le iscrizioni online. Il Don Michele Arena quest'anno offre delle nuove proposte. Quali? Si offrirà delle nuove proposte, previa autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale e dell'assessorato. Aspettiamo il nautico sicuramente, l'odonto tecnico per il professionale e anche l'automazione per il professionale. Sono nuove esperienze di studio che vogliono coniugare le esigenze della formazione con quelle del lavoro. Un istituto tecnico, un istituto professionale che oggi sicuramente potrà rispondere alle sfide dei ragazzi, ai bisogni di una società in continua trasformazione. L'Istituto Arena ne racchiude tre, se vogliamo magari indicare quali? Sì, è una scuola di quasi 1400 alunni, otto indirizzi, ne aspettiamo di altri. Il tecnico commerciale, il professionale per il commercio e il professionale Miraglia, che quest'anno si aggiunge alla grande famiglia dell'Arena. Cosa offriamo in particolare in ognuno delle scuole che ha indicato? Ci sono dei nuovi corsi? Sì, il istituto tecnico offre il classico diploma di ragioniere, che naturalmente viene rivisitato alla luce di nuovi bisogni, anche della riforma. Quindi i ragazzi che frequentano questo corso possono senz'altro conseguire competenze per la programmazione, per l'utilizzo moderno e funzionale dei software, per la creazione di siti web. Accanto a queste esperienze vogliamo aggiungere una particolarità che sicuramente sarà unica in provincia, quella per la conduzione dei mezzi navali, capitano di lungo corso. Abbiamo anche richiesto l'attivazione di un corso turistico che permetterà in realtà come Sciacca di vivere l'esperienza di studio con sicure prospettive di lavoro. Per quanto riguarda l'operatore per il commercio abbiamo chiesto l'attivazione del corso per il conseguimento del diploma di odonto tecnico. Anche questa è un'esperienza estremamente importante che potrà sicuramente aiutare molti giovani a trovare lavoro. L'esigenza è quella di coniugare lavoro, formazione, una solida preparazione di base che permette al ragazzo e alla ragazza anche di proseguire con successo gli studi. Non posso dimenticare ovviamente il glorioso Miraglio, lo studio professionale di antiche tradizioni, che unirà all'elettrotecnica e all'elettronica anche il corso di automazione. Vi aspettiamo tutta l'arena, non dimentichiamo che anche a Menvi abbiamo un'altra sede. Abbiamo tutti i numeri per offrire un futuro di certezza e scegli il tuo futuro con noi.